Io presento brevemente gli scritti di Calvino riguardanti Melotti che sono due diciamo subito poi Stefano Chiodi che ne sa molto più di me su Melotti e sulla scultura italiana del novecento entrerà dentro gli scorsi Melotti poi io come dire ritornerò un pochino tirando i fili con tre questioni che sono molto interessanti per Calvino all'interno dell'opera di Melotti partendo da questi due scritti. Allora intanto bisogna dire una cosa che uno scrittore quando incontra un artista riconosce nell'artista qualcosa di suo che c'era già cioè lo scopre o lo riscopre quindi sono illuminazioni ma evidentemente vanno a toccare poi dopo lo dirò alla fine delle questioni che dentro quel particolare momento in cui avviene l'incontro sono già in potenza un po' come una specie di sinolo insomma per dirlo Aristotele cioè un atto e potenza stanno insieme è una scoperta poi i romantici hanno pensato anche appunto all'aspetto geniale insomma anche se l'aspetto intuitivo non viene non viene quasi mai pensato nella fenomenologia di Hegel l'intuizione è respinta non c'è naturalmente c'è lo schema triadico costruito da Hegel. Allora i testi sono sono due uno che si chiama segni alti del 1971 che sta in un volume su cui poi Stefano si soffermerà meglio di me Spazio inquieto che è un testo dedicato a Melotti con dei testi di Melotti curato da Paolo Fossati che è stato una delle persone importanti dell'Enaudi che è stato un redattore e ha curato soprattutto la parte dell'arte ma non solo l'enciclopedia dell'arte insomma la storia dell'arte scusate e poi questa collana che si chiama Enaudi letteratura che è una come dire una collana spuria molto strana ma che ha intercettato negli anni settanta quello che era l'arte che stava uscendo diciamo così soprattutto da Torino dove Fossati lavorava dove Fossati viveva e a contatto con l'Enaudi sono alcuni autori che sono stati proprio catturati e a cui sono state dedicate delle specie di piccole monografie che sono dei libri d'arte sostanzialmente. La secondo testo invece è l'Effimera nella fortezza ed è un testo scritto da Calvino su Repubblica e siamo già ben oltre cioè siamo nel 1981 quindi dieci anni in cui Calvino ha subito già una trasformazione da un punto di vista letterario ed è in occasione di un'antologica di Melotti fatta a Firenze proprio quell'anno. Questo testo è poi stato incluso in collezione di sabbia che è il libro diciamo di saggi l'unico libro insieme a una pietra sopra di saggi di Calvino che non sono in realtà saggi sono soprattutto recensioni e pezzi apparsi sui giornali che lui raccoglie anche per una ragione editoriale molto evidente cioè nell'81 l'Enaudi fallisce a un commissario viene stromesso a tutto il gruppo dirigente in particolare Giulio Enaudi non vengono più distribuiti i diritti. Cambia editore ha una proposta da Delphi da Calasso ma la rifiuta preferisce andare da Garzanti e porta da Garzanti come libro nuovo la collezione di sabbia che è uno dei libri meno letti di Calvino meno diffusi meno venduti eccetera ma è anche un libro che è formidabile perché ci aiuta a capire qual era l'ultimo periodo di Calvino e che cosa guardava nell'arte nelle mostre e quant'altro. Il 72 escono le città invisibili ed è proprio la cosa cui si alludeva prima cioè Calvino trova in Melotti dei riferimenti infatti qui in mostra c'è le città invisibili del 72 aperto con la dedica fatta da Calvino a Melotti che recita così a Fausto Melotti le città sottili e tutte le altre di questo libro che è anche suo con grande amicizia. Ecco l'espressione amicizia diciamo nelle dediche di Calvino non è così frequente ma evidentemente gli era molto piaciuto non solo il lavoro che l'aveva colpito queste città sottili poi queste sculture che ci sono le tre sculture che sono nella parte finale dell'esposizione ma evidentemente gli era piaciuto anche questa persona. Ecco Melotti è una scoperta tardiva nell'arte italiana ed è una scoperta straordinaria. Evidentemente c'è anche qualcosa di eccentrico fuori dal gioco dell'arte tradizionale insomma che Calvino poi ha attraversato. Ecco come sapete in questo volume sono raccolte i testi anche in modo spurio che seguono momenti diversi della sua arte sono divisi tra testi che sono di tipo critico scritti per cataloghi prevalentemente per occasione di mostre e invece testi che sono di tipo narrativo anche questi scritti in situazioni di occasione. Ecco l'occasione è una cosa molto importante sia per i critici ma soprattutto per gli scrittori quando si accostano all'arte e scrivono di persone a cui sono amiche o cui come dire hanno una sorta di devozione di attenzione particolare. Dopo io tornerò sui tre temi che secondo me sono quelli che interessano a Melotti dal punto di vista di Calvino che sono la leggerezza, il tema della forma lentis dello spazio e un tema che possiamo chiamare l'antiscultura cioè il modo con cui Calvino si approccia alla scultura. Melotti è l'unico scultore, vero scultore che c'è all'interno dei suoi scritti dedicati all'arte quindi è una scultura molto particolare. Sono stato velocissimo Stefano a te la parola per illustrare un po' l'opera di Melotti e poi io alla fine ritorno su questo aspetto dello sguardo di Calvino. Cosa gli interessa di Melotti? Grazie, grazie mille Marco e grazie a voi di essere qui stasera. Mi fa molto piacere e sono anche molto intimidito perché appunto Marco è come sappiamo insomma uno specialista, forse in Italia è il primo che ha messo proprio l'accento sulla visività di Calvino, ha scritto dei libri e degli articoli estremamente attenti proprio all'universo visivo e alla relazione con le arti e con l'immaginario visivo e ho appena appreso che c'è stasera anche una persona che appunto qui con noi che si occupa della fondazione Melotti che mi ha permesso di fare questo powerpoint che come vedrete è piuttosto ricco e devo complimentarmi perché è raro in Italia che un artista storico riceva una cura così partecipe ma anche pubblica per strumento di studio per gli studenti per gli studiosi tutti dovrebbe è un modello diciamo di come si divulga l'opera di un grande artista. Ora ovviamente più o meno nel tempo che ho a disposizione non possiamo diciamo esaurire gli argomenti né tantomeno fare un ritratto completo di di Melotti ma quello che vorrei fare con voi è saggiare alcuni momenti della sua carriera e soprattutto cercare di comprendere al di là della pure importante appunto sintomatica con la vicinanza con Calvino di comprendere un po' la posizione di questo artista che per l'appunto passa un po' come una sorta di oggetto volante non identificato attraverso i cieli dell'arte italiana dopo una prima fase in cui come sappiamo appunto esordisce vicino esordisce peraltro ultra trentenne questo va anche detto insomma c'è una cronologia personale già atipica da questo punto di vista esordisce vicino all'atmosfera e agli interessi degli astrattisti soprattutto del gruppo milanese intorno alla carriera del milione ma adesso ne parliamo più attenzione e poi dopo una lunghissima carriera appunto che attraversa tutto il secolo alla fine metà fine anni sessanta torna a essere contemporaneo il caso di dire questa contemporaneità appunto che si guadagna e non si ottiene facilmente gli artisti sono contemporanei quando interessano altri che vivono nel loro tempo insomma ecco la contemporaneità la seconda contemporaneità di melotti è proprio calvino che la inaugura intorno alla all'inizio degli anni settanta con questa celebre collaborazione collaborazione con questa celebre investitura appunto del libro del 1971 ora io devo tenere in mano il gelato e il telecomando quindi piggerò il gelato e parlerò nel telecomando quindi diciamo ci vorrà un po di pazienza perché il gelato è il microfono ovviamente dunque semplicemente un po di immagini anche per familiarizzarsi con questa silhouette che è stata colta meglio di tutti da un grande fotografo con mulas che è stato il fotografo che appunto ha illustrato con ben 48 immagini il libro in audi di cui poi vi farò vedere meglio il contenuto le immagini di mulas come sempre nel caso di questo di questo grande artista e fotografo non sono mai semplicemente delle fotografie o dei ritratti c'è sempre un piccolo spostamento e nel caso di melotti c'è sempre un lievissimo sentore di ironia c'è sempre l'idea che la silhouette la posizione il corpo la fisicità e le sculture di melotti non si possono capire senza comprendere che aleggia nella persona e nell'opera uno spirito molto particolare e questo è mula se l'ha afferrato in maniera estremamente interessante se guardiamo le fotografie che mula se fa a fontana amico e grande contemporaneo di melotti ci accorgiamo che siamo in presenza di due personaggi completamente diversi no fontana è un seduttore è un uomo che campeggia nello studio che si muove a gambe larghe di fronte alle tele invece melotti distoglie lo sguardo e guarda altrove guarda per terra in una foto che sembra un montaggio surrealista no sembra appunto una foto uscita fuori da dalla fantasia di manrei o di boffa di qualche altro fotografo anni trenta ed è realmente un montaggio e tra l'altro la presenza di questo mani di questa statua diciamo linea impone a noi che guardiamo una strana circolazione di pensieri e di immagini perché abbiamo una scultura stratta di melotti abbiamo melotti e poi in mezzo chi è questa persona chi è l'allegoria della scultura forse oppure è semplicemente appunto un'immagine un'immagine mentale un sogno oppure semplicemente è lì come appunto nella fotografia surrealista per il caso necessario cioè per quelli accoppiamenti che si rivelano funzionali significativi soltanto dopo che abbiamo visto appunto l'immagine in ogni caso è un'immagine che ce ne sono alcune altre qui ne ho raccolte solo veramente due o tre ma interessante perché il posizionamento di melotti nella memoria visiva italiana avviene attraverso le fotografie di mulas cioè questo è un elemento interessante di strategia dell'immagine nessun artista dopo diciamo una certa data dopo gli anni sessanta si può dire che sia esente da questa da questa possibilità se pensate per esempio a quanto ha contato nella nella vita nella carriera di pascali di pino pascali la fotografia di claudio abate se non avessimo le fotografie di pascali che come una rock star fa le pirouette intorno alle sue sculture opposa come un attore un un bello degli anni sessanta probabilmente non avremmo esattamente lo stessa la stessa immagine mentale quindi questo è un dettaglio diciamo forse per 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 voi ma da un punto di vista di come si impone l'attenzione di una figura d'artista a la percezione pubblica è molto rivelatore che ci sia uno fotografo di questo genere molto rivelatore anche naturalmente che ci sia una casa editrice come le naudi dei primi anni settanta che promuove diciamo questa operazione ecco qui siamo appunto nel settanta ora se avete già visitato la mostra avete sicuramente visto questo questo lavoro queste sono appunto un'immagine qui dell'allestimento qui alle scuderie al primo piano ma visto che abbiamo la bellissima fotografia fornita dalla fondazione vi faccio vedere questa dunque queste sono appunto le torri della città invisibile come vedete la data dell'opera è posteriore al libro il che vuol dire che c'è stato un feedback c'è stato cioè chiaramente l'artista si è nutrito della lettura dello scrittore e ha reagito in qualche modo anche se questo tipo di intervento questo tipo di materiali cioè lamierino d'ottone fili e altri materiali molto leggeri e molto e molto duttili esiste in realtà nell'opera di melotti fino dagli anni dagli anni sessanta come vedremo più avanti l'idea interessante proprio perché c'è questa circolarità appunto no le città invisibili la narrazione marco sicuramente ne parlerà più tardi sono un esperimento mentale interessante perché appunto essendo un libro essendo parole impongono però al lettore uno sforzo di immaginazione e se sono stati fatti degli studi che diciamo non posso citare perché sono veramente troppi e troppo e troppo complessi ma sono stati fatti degli studi sulla fortuna iconografica delle città invisibili in tutto il mondo esiste addirittura un sito web che esiste da una decina d'anni che raccoglie tutte le visualizzazioni delle varie città perché poi ovviamente non si possono neanche fare tutte ovviamente ma in gran parte sono state diciamo quasi tutte e oggetto di elaborazioni fantastiche ed è qualche anno fa una rivista accademica italiana ha pubblicato addirittura un numero monografico sulla sulla visività appunto di delle città invisibili la cosa interessante è che melotti non è tra gli illustratori delle città invisibili in realtà la sua è una convergenza in qualche modo felice come in questo caso e la cosa interessante è che il titolo di questa di questo lavoro impone una diciamo misura come dire siamo portati a riconoscere o meglio a proiettare su queste quattro sculture un'immagine quella della torre quindi di una città turrite quindi insomma in qualche modo di una città antica che in realtà è un elemento puramente verbale cioè questo diciamo il titolo è veramente come è stato detto la culo invisibile no il colore invisibile questa è una frase bottler molto molto famosa no che diceva appunto che nei quadri il titolo è ciò che appunto aggiunge quel qualcosa che che in realtà non si vede con gli occhi e proprio in questo caso direi che siamo in presenza di un di un meccanismo di questo tipo come è arrivato fin qui melotti questo è il problema perché i testi di calvino il testo di calvino appunto che questa è la copertina della prima edizione copertina commentabilissima tra l'altro ma ci asteniamo da dire perché c'è questo monolite sospeso sul sul paesaggio sembra il film di fantascienza arrival di qualche anno fa no con quei cosi che stanno in mezzo ai prati che segnalano la presenza degli alieni questo invece è una roccia appunto con una città ma che cosa appunto succede nella fine degli anni sessanta succede che le città non sono tanto invisibili ma sono in movimento c'è una crisi dell'urbanistica una crisi dell'urbanesimo nell'occidente a diciamo economia capitalista ma anche nell'oriente nei paesi socialisti dove prevale la pianificazione la città che è stata pensata nel secondo dopoguerra come una città appunto sul modello della parigi di le corbusier una città di torri grandi immobili grandi assi stradali ortogonali una griglia totalmente disumanizzante e negli nell'occidente fenomeni come quelli appunto della cancellazione dei centri storici negli stati uniti di cui parlava jane jacobs che appunto è un'autrice che negli anni sessanta mette l'accento su questa cancellazione sistematica della città storica a vantaggio di grattacieli delle grandi corporations e poi della disurbanizzazione perché appunto la vita si sposta nei suburbs dove si vive a un'ora due ore di automobile quindi ci vogliono le autostrade ci vogliono i trasporti a misura di questa dispersione degli abitanti insomma la città alla fine degli anni sessanta da molti punti di vista sia urbanistico che architettonico che sociale è un organismo malato e nell'avanguardia degli anni sessanta esistono dei dei gruppi di architetti di urbanisti e di soprattutto di utopisti diciamo della città che sono estremamente interessanti da osservare se non altro proprio perché i loro disegni le loro immaginazioni sembrano incredibilmente vicine sia alle fantasie di melotti che a quelle di calvino perché appunto ci si ci si addentra nelle città invisibili così come si osservano certe sculture di melotti con uno sguardo che non è molto dissimile questi sono due questo è una delle cose più celebri del gruppo archigram sono siamo nel 66 questo è un pieghevole in cui vediamo walking city cioè una città addirittura costruita come una gigantesca macchina dotata di zampe semoventi che attraversa il paesaggio oppure si installa ai margini della città storica come vedete qui le torri di manhattan e crea dunque una diversa disposizione una città che non ha più una forma stabile per esempio no questa città che è assolutamente priva di quei caratteri di fondamentalmente di permanenza no che sono per noi automaticamente connessi all'idea di città e così anche se vedete è incredibile no melotti non ha visto archigram non possiamo immaginare ma che ci sia un elemento di questo genere nella nell'immaginario cioè una città fatta di fili di no strutture aeree che sorreggono immagini che sorreggono cartelloni pubblicitari che però se li guardiamo bene in realtà si omigliano più a quadri di rob trushenberg del grande artista appunto americano pre pop art no che lavora con questi frammenti di immaginario urbano prime pagine di giornale elementi tratti dalla dalla dallo scenario urbano montati in questo modo così interessante originale ecco vedete dunque una città che perde la sua caratteristica la sua durezza e diventa aerea diventa leggera e soprattutto porta dei segni porta dei segni dei segni visibili delle 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 impronte e si manifesta in una forma del tutto diversa appunto imprevedibile dall'urbanistica sia dall'urbanistica moderna dalle grandi torri da le grandi torri di vetro e d'acciaio che vengono costruite in tutto il mondo a partire dagli anni appunto dal dal secondo dopoguerra il successo del grattacielo che si diffonde a macchia d'olio e che viene replicato un po ovunque inclusi nei paesi nei paesi socialisti soprattutto però in occidente e nei paesi anche in che all'epoca si sarebbero definiti in via di sviluppo che oggi chiameremo del sud globale ecco questo tipo di immaginario qua che poi è anche quello che negli stessi anni in fondo viene osservato da Robert Venturi in Learning from Las Vegas questo libro straordinario che imparando da Las Vegas appunto in cui lui dice ecco la città del futuro non è una città architettata non è una città solida e dopo tutto non è una città che ha una forma qualsiasi è in realtà le case sono dei capannoni degli shed che supportano i segni visibili i segni luminosi delle insegne ecco lui teorizza dunque un'architettura dearchitettata anarchitettura la chiamerà Gordon Mattaclarke che è un artista proprio che tra anni 60 e 70 critica la città modernista la città dei grattacieli la città del World Trade Center per intenderci quella appunto che cancella ogni traccia perché svettano questi questi grandi totem corporate delle grandi multinazionali l'idea cioè che sia Galvino che Melotti però assorbano dal loro da questo momento storico delle onde captino delle onde in qualche misura e naturalmente Melotti lo fa da prima e lo fa diversamente Calvino lo fa da scrittore e non da da artista neppure da architetto eppure c'è qualcosa che ci consente di guardare un po' meno in maniera astratta e un po' più storicamente fondata a questo momento cioè il fatto che ci sia questa questa questione della città insomma in qualche misura questo questa idea di una città che deve cambiare e lo deve fare in modi che non sono previsti dal protocollo moderno non sono non si tratta di andare più su o di estendere quello la maglia geometrica ma piuttosto può di pensare no che cosa significa abitare tutto questo naturalmente non ha funzionato perché adesso siamo diciamo peggio di prima però almeno allora ci si provava questa è instant city un altro un altro elemento ora permettetemi di fare proprio un salto all'indietro e andiamoci a vedere come è cominciata la storia di Melotti ovviamente non vi posso diciamo parlare dei passaggi minuti uno sull'altro ma vedremo alcune immagini e il percorso che ho fatto che ho composto con le immagini dovrebbe essere sufficientemente chiaro per capire una cosa è molto difficile non negli anni sessanta ma fin dall'inizio del percorso di Melotti dare una definizione di Melotti è veramente molto affascinante potremmo dire che c'è soltanto un artista contemporaneo di Melotti che riesca a essere plurilinguistico in questo modo che adesso vediamo vi sorprenderà quello che state per vedere spero in qualche modo perché siamo abitati a pensare che una conquista stilistica per esempio Mondrian che esordisce come figurativo e dopo qualche anno si come dire libera della natura e va verso noi mondo trascendentale dell'astrazione malevici grandi della prima del primo modernismo novecentesco siamo abitati a pensare che questa sia una conquista irreversibile in qualche misura no c'è un artista solo che non è così che si chiama picasso questo artista è quello che la mattina disegna dipinge un grandissimo quadro cubista il pomeriggio fa un disegno neoclassico e la sera fa un quadro surrealista nello stesso giorno ci sono le date se andiamo a vedere appunto il catalogo picassiano quello che è stupifacente che evidentemente per lui questa regola non valeva ma se possiamo dire non vale per lui vuol dire che appunto non è eccezionale che effettivamente siamo noi che proiettiamo un'attesa no sugli artisti di essere fedeli a una a una immagine a qualcosa è come lotti inaspettatamente è un artista di questa libertà e di questa grandezza cioè può veramente fare e fa delle cose che adesso cercherò di farvi vedere allora diciamo ci sono dei momenti iniziali dunque la formazione di 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 melotti avviene in maniera devo dire anche qui sorprendente anzitutto perché ha studiato ingegneria al politecno di milano quindi non non possiamo dire abbia fatto il cursus diciamo tradizionale è nato diciamo a trento ha vissuto a firenze poi a rovereto dove c'era sapete no rovereto la città di fortunato de pero ma anche di di gino pollini la metà del duo figgini pollini con il quale poi architetti con i quali collaborerà più tardi si laurea in ingegneria elettrica elettronica qualcosa del genere come si chiama lo scritto elettrotecnica ecco per essere precisi contemporaneamente studia pianoforte segue un corso di scultura con prima con piero canonica e poi va a studiare con adolfo vilt vilt è il grande artista art nouveau diciamo milanese grandissimo scultore figura anche abbastanza misteriosa per altri versi della della scultura italiana e in questi anni incontra fontana e alla fine del tra il 34 e il 35 avviene il suo esordio ma quello che viene subito prima qui siamo nel 1932 molto interessante questo è un basso rilievo una lastra di di gesso inciso non so se riuscite a vedere le linee le linee sottili ecco tenete a mente questo dettaglio e questo è invece un lavoro del mio 133 molto interessante perché combina cose che non dovrebbero stare insieme nel linguaggio modernista combina il colore la materia questo è mosaico sono gli stessi anni in cui fontana anche lavora con questa polimatericità molto strana e molto interessante la geometria come vedete questi questa 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 struttura appunto quadrangolare con le due fasce colorate e la scultura figurativa quindi anche qui nel 33 34 insomma sì possiamo dire che non ci sia proprio una una come dire rigidità no è molto interessante molto interessante sapere che appunto appena poco dopo questa frase che ho trovato in questo catalogo c'è uno spazio musicale strutturato nella costruzione dell'armonia è un tempo musicale nella scansione del contrapunto imitazione canone variazione anche il semplice svolgimento della melodia cercando di collegarmi a questi principi nelle opere astratte del 34 del 35 ho messo in gioco anche la rinuncia ai torbi di piaceri della materia naturalmente è una frase pronunciata molto dopo i fatti naturalmente appunto cerca di dare anche una interpretazione retrospettiva e lineare in qualche modo che poi smentita dalle dalle cose ma insomma arrivare a questo punto vedete che le incisioni sui bassorilievi sulle lastre di gesso chissà forse aveva visto sicuramente aveva visto i meravigliosi bassorilievi di canova bassorilievi appunto qui il gesso diventa un materiale vivo nelle mani dello scultore no questa questa idea della formella stratta tridimensionale queste sono naturalmente le sue sculture più famose coincidono con appunto con gli anni in cui lui si muove intorno espone anche alla galleria del milione sono compagni di strada osvaldo licini antonio soldati manlio ro lucio fontana e giorgio radice c'è da dire che questi sono anche gli anni in cui esce il proprio 35 esce un libro fondamentale della stratta italiana kn l'autore carlo belli che tanto è suo cugino quindi c'è una relazione familiare diretta carlo belli è il insomma il teorico dell'astrattismo italiano questo libro molto importante di cui addirittura gandischi detto la definizione del vangelo dell'arte astratta insomma c'è un libro importante un libro decisivo anche perché nel 35 non è certamente astrattista la politica favorita diciamo dal regime fascista si tratta quindi implicitamente di un'arte di opposizione considerate che sono gli anni nel 36 apre a monaco di baviera entarte kunst dove i vittori astratti espressionisti cubisti e diciamo tutte le altre correnti sono bollate come degenerate e questo diciamo per per fare un po di misura diciamo dell'atmosfera politica e culturale di questi di quegli anni non era ovvio che si facessero mostre di arte astratta nel 35 si fanno nessuno dice praticamente nulla almeno finché le cose si limitano a essere diciamo dentro il mondo dell'arte vi faccio vedere un po di queste straordinarie sculture che di cui si abbiamo varie versioni alcune di queste sculture si trovano al museo del novecento sicuramente le avete viste a milano scultura numero 14 anche la la numerazione fa parte di questa riduzione no alla 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 misura aurea del numero inespressive non ci sono più titoli evocativi insomma per intenderci ecco questa forse è una delle più famose la numero 15 sempre del 35 vedete si potrebbe dire che in ognuna di queste sculture sono all'opera un principio di diciamo di ordine no un principio di diciamo così tettonico e una misura come dire esplicita e poi c'è un elemento invece che contrasta armonicamente con questa con quella struttura cioè in tutte quelle che avete visto questo è il meccanismo che funziona diciamo adesso mi sbrigo è ancora scultura numero 21 1935 alcune di queste sculture sono state riprodotte successivamente cioè sono state magari solo anche progettate oppure eseguite in gesso o in materiali meno di poi in anche come dimensione diciamo in scala più monumentale ancora un altro basso rilievo questi motivi sono anche quelli che si ritrovano molto spesso nelle architetture contemporanee no milano è un luogo di grande ricchezza di grande sperimentazione non solo artistica ma anche architettonica e dal punto di vista anche delle arti decorative c'è qualche assonanza non abbiamo tempo per esplorare ecco questa straordinaria questa scultura anticipa una struttura la struttura a diciamo architettonica che tornerà appunto negli anni sessanta la vedremo meglio più avanti ma vedrete no con questo quadro tridimensionale questa struttura tridimensionale con questi scomparti ecco questo è un motivo che tornerà spesso all'interno della ecco qui siamo qui sopra questa è una foto appunto di questo lavoro installato qui a pochi metri da dove ci troviamo e questo diciamo è il lavoro una diciamo versione del lavoro in acciaio scultura a i pendoli del 68 vedete improvvisamente siamo andati avanti di più di un trentennio ma c'è una permanenza dunque anche di certi di certi motivi e questa è un'altra di queste fotografie di mulas che come vedete io diciamo ho dubitato della mia sensazione ma dopo averne viste diverse e diciamo più d'una di queste fotografie non c'è alcun dubbio che ci sia una intenzionalità da parte di mulas e una complicità da parte di melotti queste sono evidentemente nate da una intesa sorridente tra questi due tra questi due artisti sono evidentemente no un messaggio che guarda sperduto i grattacieli avete 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 visto appunto i film i film di tati jack tati appunto che mette in scena questo omino invariabilmente vestito da pensionato con un trench un soprabbito stazionato cappellaccio che si aggira in una parigi modernissima nella parigi della defense e guarda appunto terrorizzato e sperduto queste torri gigantesche ecco esattamente proprio sono gli stessi anni tra l'altro perché appunto tati lavora su questi su questi temi proprio tra anni sessanta e settanta stupendo tra l'altro qui c'è un elemento di serialità vedete no questa iterazione della stessa dello stesso motivo del pendolo ecco a questo punto uno potrebbe dire ok sei arrivato a 34 35 anni suonati a un punto altissimo nella tua produzione sei ormai ti sei liberato dalle scorie della figurazione e dunque adesso c'è solo la grande modernità ebbene la cosa interessante di melotti è che non è così appunto c'è una modernità astratta sicuramente che torna che tornerà anche più tardi ma c'è anche costantemente come diceva il torbido piacere della materia come diciamo c'è qualcosa insomma che lo riporta a al corpo ed è un corpo in questo caso però speciale perché in realtà quello che succede siamo nel 36 melotti collabora con gli architetti del gruppo bpr che sono adesso vi farò vedere l'immagine gli autori di una sala della triennale di milano del 36 appunto una importantissima triennale di milano a cui collaborano tra l'altro due personaggi notissimi come l'architetto muzio e l'artista sironi che sono lì alla porta accanto no quindi non possiamo immaginare più direi alla luce proprio del percorso storico l'idea appunto di un artista da una parte no con il suo mondo la sua dobbiamo pensare melotti come un artista che guarda la realtà cerca committenze e relazioni con quello che si muove intorno a lui e come vedremo fa anche delle scelte del tutto imprevedibili dal punto di vista di una tradizionale narrazione questo è costante uomo è in realtà un manichino potremmo dire infatti ha degli aspetti diciamo chiaramente decirichiani alla lontana che richiamano appunto i manichini del decirico metafisico ma in realtà questo è una figura umana cioè serve appunto a stabilire la la grandezza umana come un po il modulore di de corbusier ed altri modelli umani servono nei progetti architettonici per stabilire la scala degli edifici ebbene questo questa costante uomo finisce dentro appunto la sala della coerenza bea di loro sala che viene allestita dal gruppo appunto bbpr banfi bel gioioso per essuti e rogers alla sesta triennale le sono dodici sono dodici figure umane che vengono come vedete poste dietro questi pannelli sui quali corre un una un testo piuttosto complesso che adesso non possiamo non possiamo leggere su questo pavimento vi faccio notare anche la vasca con con l'erba all'interno questo allestimento non è degli anni 60 come sembrerebbe ma è del mio 136 che vuol dire appunto c'è un anacronismo un'anacronia evidente no cioè questo è una sala del 36 che sogna la triennale di milano del 64 in sostanza no come come diciamo come impatto del 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 dispositivo della mostra questo è molto interessante ma poi molto successivamente negli anni 60 il motivo della del manichino dunque l'oggetto che serve a stabilire la scala umana appunto nei progetti architettura diventa un'opera a sé stante prende il nome di il titolo di sette savi ne esistono varie versioni in marmo e in altri materiali questa fotografata anche questa da mulas e fotografata soprattutto sempre con meravigliosamente con melotti che è un po interdetto sembrano che appare diciamo così notate bene che l'elemento sorridente implicito in questa immagine non è affatto dissacrante è precisamente una chiave di lettura dell'opera di melotti nel momento in cui apparentemente la rende meno epica in realtà la rende più profonda ecco questo è molto interessante l'idea appunto che il contrasto tra il modello sublime o metafisico del manichino bianco senza volto sembra una scultura delle cicladi sapete quelle sculture del paleolitico purissime questi volti di oranti che sono che guardano il sole no ecco questo è il modello ancestrale di queste immagini però con la presenza dell'artista che le tocca diventano un'altra cosa allora ci obbligano questa fotografia ci obbliga in qualche modo a desacralizzare a desublimare insomma no questo questo aspetto che pure rimane indubbiamente ma che va corretto corretto da la sensibilità del tempo cioè del mio 170 effettivamente ditemi del tempo come siamo mi sbrigo eh ora vi faccio vedere che in realtà appunto come dire melotti non si limita soltanto a partecipare come dire alle imprese degli architetti ma in realtà lavora per i cantieri che sono importanti a milano e anche a roma proprio negli anni 40 negli anni tra anni 30 e 40 in forme che sono del tutto inconcepibili in una narrazione lineare questo è san tommaso una scultura come vedete è allestita sempre in attriennale credo e soprattutto la tomba manusardi che è una tomba che è stata realizzata con figgini e pollini molto interessante la struttura modernissima e straordinaria della tomba ma col gruppo scultorio neoromanico si direbbe che 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 melotti eh nel 39 quindi quattro cinque anni dopo quattro cinque anni dopo l'esordio astrattista produce e ancora più sorprendente sono altre cose di questa stessa epoca per esempio questi due straordinariamente bellissimi eh jessi la decorazione della pittura figure allegoriche ce ne sono altre ho scelto soltanto queste due figure che dovevano essere chiaramente tradotte in qualche in una scala eh monumentale e la cosa forse più sorprendente perché questa è stata fatta veramente è questa eh statua progettata per le 42 per l'euro che eh appunto doveva essere questo gruppo eh tra l'altro molto sironiano della famiglia nucleare italiana quella che i nostri governanti oddio non lo devo dire vorrebbero vedere tornare beh a di loro e quindi l'uomo con la vanga o con non so qualche altro strumento eh e e la donna naturalmente con col bambino e di cui esiste però una versione in marmo che è stata piazzata nel parco delle tre fontane senza etichetta nessuno sa che sta lì io l'ho trovata anzi l'ho individuata grazie appunto al meraviglioso sito della fondazione anch'io sapevo che esistesse per cui sono rimasto eh estasiato e mh tra l'altro ehm si potrebbe anche appunto fare un discorso ce ne sono altri ancora sempre di di questo bozzetto ma esistono altre versioni ma ci sono anche altri progetti dunque vedete che la complessità allora sarebbe facile dire ok d'accordo lo hanno obbligato oppure era di convenire no il problema è più sottile di così problema è capire che eh astrazione figurazione corpo naturalistico neoclassico eh e mh formelle astratte geometriche non sono necessariamente in opposizione sono in una relazione dialettica ovviamente ma non sono prove di decadenza o di progresso insomma dobbiamo liberarci da questo schema eh così eh rigido adesso piccolo escursus da storico dell'arte perché qui bisogna anche far vedere insomma che uno ha studiato fondamentalmente allora qui mi mi chiedo è possibile che di Melotti si cita tutto tranne il fatto che era un grande osservatore dell'arte del suo tempo eh naturalmente eh il più immediatamente visibile è ovviamente questo io ne ho scelti due qui perché diciamo andiamo eh naturalmente un po' eh tagliamo molto molto sommaria però eh è più che evidente che eh Melotti abbia amato e studiato clè per tutta la vita eh questo è un disegno molto famoso tra l'altro eh in cui vedete appunto c'è questa maglia su cui si che è una sorta di partitura musicale è anche uno spartito no? C'è quindi l'idea del della figura che diventa armonia che diventa biologia che diventa architettura è tutto insieme no? Questa è la grande genialità di Clè ovviamente ma anche questo questo ha anche eh la macchina cinguettante io traduco il titolo originale in tedesco qui ehm appunto vedete questa struttura architettonica fatta di fili in realtà c'è una manovella e che che muove questi questi uccellini canori si suppone insomma che li fa salire su e giù immaginatevi no? Durante il movimento meraviglioso ma ci sono naturalmente anche altri riferimenti ecco eh nel 1956 eh una rivista americana pubblica questo inserto per farvi capire come le cose siano interessanti si pubblica un intero inserto di Architectural Digest che è una rivista di architettura moderna americana molto importante probabilmente letto anche in Europa eh che parla dei miraggi architettonici di Clè e la cosa interessante è che quando andiamo a vedere le pagine del eh della della rivista notiamo proprio questo il fatto che cioè queste figure mettendo insieme i disegni di Clè anticipano riflettono proiettano qualche cosa no? Che eh giunge eh dall'altra parte eh evidentemente ehm l'idea circola no? Che quella di Clè è una visione anche qui della città e della modernità come eh diciamo non macchina per abitare alla Clè Corbusier ma come qualcosa di molto più organico di molto più fragile in cui c'è spazio per l'inconscio per il sogno per l'avventura per la deriva sono tutte idee che il secondo novecento esplorerà in molti modi il situazionismo per esempio in Francia lavorerà molto su questo immaginario ma che mi interessava farvi vedere appunto che si poteva addirittura negli anni cinquanta avere questo tipo di eh no sensibilità eh verso eh la città questo il testo racconta molte cose ovviamente non lo possiamo il flusso eracliteo ma anche eh altre cose che diciamo uno dei mille esempi possibili l'invenzione di Picasso che un giorno si mette a fare sculture di filo di ferro eh ne fa ne fa un po' eh e poi eh appunto Julio Gonzales e eh altri riprendono queste idee ne fanno poi una un'intera un'intera carriera questo è un bozzetto di un monumento che non è stato realizzato fino al mio centottantasei è stato poi messo nel giardino del Museo di Picasso è il monumento a Collinaire eh straordinario ma la cosa interessante qui è che vedete è una struttura astratta ma allo stesso tempo una struttura figurativa no perché c'è il volto come proprio in alcune sculturine di di Melotti ci sono queste faccine di questi visionari di questi ulisse sulla prora del della loro nave no questo è un elemento eh stilistico molto chiaro poi vabbè ovviamente eh su questo non non possiamo dire niente c'è una coincidenza anche proprio di spirito anche se Miró è stato trasformato in una cartolina illustrata un po' troppo 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 dolce troppo buono soprattutto in realtà negli anni venti Miró non era affatto un po' l'artista infantile sorridente e un po' scemo che eh così la pubblicistica ha voluto di cui la pubblicistica ci ha trasmesso l'immagine è in realtà un grande rivoluzionario è un esploratore è un membro del primo gruppo storicamente il primo gruppo surrealista e i suoi lavori sono eh estremamente interessanti anche per l'uso del linguaggio per l'uso delle immagini verbali eccetera qualcosa che probabilmente piaceva anche a Calvino sarebbe potuta piacere anche a Calvino cacciatore paesaggio catalano uno dei grandi classici degli anni venti di di Miró e poi Giacometti Giacometti che ehm ha fatto diverse sculture soprattutto a partire sia prima degli anni prima della seconda guerra mondiale che dopo ho fatto vedere ho preso soltanto questa perché è più rara ma se pensate al al periodo surrealista di Giacometti trovate molte coincidenze questa è ovviamente è appunto una struttura architettonica ma è anche una struttura esistenziale no ovviamente perché quello che sta attaccato alla gabbia ecco non è che proprio stia lì eh in santa pace probabilmente a guardare il sole ecco poi a un certo punto eh per farvi vedere anche l'elemento polimaterico il colore soprattutto non abbiamo visto molto fino adesso effettivamente la sublime stagione dei teatrini io li ho chiamati i teatrini ma sapete che la definizione è stata soprattutto usata per i teatrini di Fontana che sono più tardi di questi peraltro ma eh questi teatrini sono eh sono terre cotte eh colorate eh straordinarie in cui ehm come in una sorta di scena teatrale congelata appunto avviene eh avviene eh qualcosa che noi siamo invitati a vedere eh frontalmente eh quindi questi scomparti è troppo chiaro che questo è un quadro di Mondrian all'origine no chiaramente l'elemento che eh che è interessante è questo si prende un quadro di Mondrian che simula come sapete la griglia di Mondrian serve a creare un'illusione una profondità non imitativa non illusionistica è una profondità che va intesa eh intellettualmente e lo si trasforma in un oggetto tridimensionale ma dentro ci si fanno abitare dei personaggi questo è tutto il twist intellettuale poetico di un grande artista no ci si prende una struttura che è stata pensata per sollevarsi dalla terra per andare nel mondo puro del mondo dell'idea eh neoplatonica appunto per ascendere un po' come Malevich che voleva arrivare nell'universo bianco del neoplasticismo eh e lo si riporta sulla terra e lo si trasforma in un eh oggetto letterario il riposo del guerriero è un tema letterario è un tema letterario ed è un tema della tradizione della pittura soprattutto della pittura cinque secentesca pieno di eh eh figure della storia romana o della storia eh della storia europea che si riposano no dopo aver fatto qualcosa eh Ercole si riposa dalle fatiche ma anche i generali romani gli eroi mitologici eccetera ne ho scelte un po' soltanto perché sono meravigliose i titoli sono meravigliosi la vita a pezzi notare che appunto al primo piano si dorme al secondo si mangia e al terzo non ho ben capito cosa si faccia ma probabilmente si si contemplano le stelle o qualcosa del genere stupendo straordinario e e e e naturalmente certo c'è anche l'elemento eh così la vicinanza anche all'atmosfera più che all'iconografia no morandiana sono questi oggetti poggiati che il tempo non c'è più il tutto è sospeso e poi ce n'è uno veramente con un titolo molto strano teatrino angoscia ecco di tutti i sentimenti Melotti è probabilmente il meno indicato per convogliare l'angoscia eppure eh come vedete eh sì questo è eh una un un riferimento diciamo eh io direi che c'è dentro Beckett e e Sironi insieme no cioè ci sono effettivamente questa questo spazio assurdo no leggiamolo proprio banalmente la piattaforma dove sta il personaggio non conduce da nessuna parte eh le le parti che avrebbero potuto diciamo definire lo spazio sono spezzate totalmente spezzate e quello che resta è questo questo vuoto e questa strano coronamento non si sa bene se è un altro pezzo di paesaggio se è un'altra architettura se sono dei corpi se sono le eh come dire eh le emozioni eh che che spuntano da qualche parte straordinario ecco arriviamo finalmente a Melotti e Calvino era ora siete qui per questo dopo un'ora eh però eh vediamo subito l'oggetto eh lo spazio inquieto esce nel 1971 Marco ha già raccontato la sua eh genesi appunto eh Paolo Fossati collana meravigliosa tra l'altro e e oggi tutti questi libri sono pezzi di antiquariato eh grafica di Bruno Munari l'altro grande straordinario modernista italiano artista grafico a tutto tutto Munari ha veramente esaurito tutte le possibilità con 48 fotografie di Hugo Mulas e un testo di Calvino già il fatto che ci siano questi tre nomi nello stesso libro eh insomma è sicuramente insomma un dato che dovrebbe far riflettere sullo stato della cultura in Italia in quel momento eh la cosa interessante è che tutti questi personaggi forse è più giovane eh sono tutti i personaggi che hanno vissuto il novecento italiano eh sicuramente Munari e Calvino che hanno attraversato l'intero novecento italiano ecco questo è la cosa interessante e sono contemporanei cioè sono di quel momento eh sono questo è dunque nel 71 eh Melotti ha 70 anni quindi insomma è è come dire è un giovane artista ecco eh e vi vi propongo giusto qualche qualche linea di testo sono testi molto conosciuti che insomma abbiamo già letto tante volte non più sommerse negli spessori e nei congegni le rarefatte impalcature della felicità si levano sull'orizzonte cancellato agli occhi ilari del viaggiatore ma il sorriso del savio che lo guida leggero come un vecchio angelo interrogativo come un augure bambino già lo avverte che questa vegetazione di segni scorporati ha pur sempre radici nel nostro precario stare al mondo questo concerto di percussioni e trilli di zufolo è l'unico modo per dire la pena di fronte a tutti i possibili impossibili questo modo di scrivere dell'arte ha un nome antico ecfrasis cioè si tratta di tradurre in testo eh ciò che viene osservato con gli occhi è una vecchissima è un vecchissimo genere letterario antico molto praticato eh tra otto e novecento da tantissimi eh artisti eh poeti eh scrittori intellettuali basti pensare per esempio per per rimanere nel novecento surrealista André Breton è il maestro no di di questo genere i testi sull'arte di Breton sono tutti delle derive eh poetiche di questo genere la cosa interessante è che se posso rubare il mestiere a bel politiche eh mi punirà moltissimo ma io direi che che per quello che ho letto di Calvino insomma da quando ho cominciato a leggerlo forse pochi anni insomma ma credo di aver letto abbastanza di Calvino è raro trovare Calvino così lirico cioè effettivamente Melotti lo lo sbloccava cioè in qualche modo sfido eh i filologi a trovarmi che dei eh delle dei versi insomma dei versi ovviamente c'è una prosodia evidente no ma è un linguaggio poetico pieno di immagini singolari le rarefatte impalcature della felicità è un verso no adesso non lo so non lo conto ma potremmo contarlo eh le rarefatte della felicità sono sedici sono due ottonari ecco sono eh definizioni che emergono eh non in termini descrittivi ma come una forma di apprensione poetica istantanea non c'è una mediazione narrativa e non c'è neanche l'intenzione di spiegare l'immagine è una sorta di doppio letterario della eh delle immagini ce ne sono altri questo è un po' più lungo ehm vi leggo solo una parte estro radioestesico di biglie di piombo legate a catenella libere a catenelle libere di descrivere circonferenze in ogni dimensione o di interpretare ellitticamente la scansione circolare dello spazio basta leggerla ad alta voce e ci si rende conto che questa cosa fa così proprio è un grande è una grande nave spaziale che orbita intorno alla terra e per esso ogni figura vivente vive di mondo di moto pendolare piramide umana o uccello boss primigenius che avanza passi penduli su zampe inanellate contrappeso a ogni ruota elica girandola a nemometro radar sospeso in vibrante immobilità il pendolo non schiavo della ciondolante gravitazione terrestre ma disponibile per capovolto e oscillazione da diaposone eccetera eccetera è veramente un testo poetico queste parole emergono sono anche isolabili sia nelle città invisibili che in altri punti della soprattutto del nella parte in cui calvino ha scritto anche canzoni e ci sono questi elementi però appunto adesso io mi sarebbe appunto ci sono parole montaliane ci sono parole che poi vengono dai linguaggi settoriali che vengono dai linguaggi geometrici qui si è lasciato andare come dicevi tu cioè ha lasciato fluire delle immagini interiori che gli venivano ma non sono solo immagini ed è lo stesso problema delle città invisibili che è così difficile rappresentarle perché perché non esiste la rappresentazione perché la rappresentazione vuol dire che si ripresenta qualcosa che c'è invece nel caso delle città invisibili come anche di queste scritture buttate lì diciamo così istantanee probabilmente anche spontanee anche se poi c'è tornato sopra le rifatte le ha corrette probabilmente non abbiamo i dati lo scritti o meglio i manuscritti perché calvino scriveva sempre a mano vengono fuori da qualcosa di irrappresentabile cioè il tentativo di dare una non so se appunto si può dire l'inconscio qualcosa del genere ma anche calvino è uno scrittore con l'inconscio non è che non ce l'abbia ecco qui rispetto nei testi rispetto all'arte è più libero è più libero a volte diciamo diventa più narrativo qui è come l'hai letto giustamente tu è frantumato cioè è poetico si potrebbero mettere le barre della capo della della poesia perché c'è un frantumo ecco nelle città invisibili questo frantumo viene tutto legato è come se lui prendesse il frantumo che fossero diciamo dei pezzi di stoffa e li cucisse insieme con con uno stile che è uno stile in parte onirico è uno stile immaginativo ma la difficoltà degli artisti o degli illustratori di ridarci questa immagine proprio per il fatto che non possiedono il filo di calvino cioè l'immagine di calvino è filata è cucita rimessa insieme di parti che sono scorporate e ci vorrebbe un genio della pittura o dell'illustrazione che riesce a trovare in modo spontaneo e personale questo filo e riconnette tutto in una forma cosa che non è quasi mai quasi mai data non so se sono riuscito anche io procedo per immagini a dire che cosa è questa questa immagine di calvino allora adesso vediamo un po di questi sublimi lavori degli anni 60 70 la monta solare del 67 qui l'idea del teatro del teatro di burattini per esempio c'è questa idea del qualcosa di una fantasmagoria ecco l'idea di una fantasmagoria infantile e dunque di una immagine che proviene da molto lontano la cosa interessante che in questo periodo proprio in questi anni pasolini va verso l'arcaico l'arcaico va verso fa edipo re medea e non a caso i costumi e l'estetica dei suoi film sono tentativi di oltrepassare il gusto diciamo del film il cinema in costume e di arrivare a danilo donati fa i costumi appunto delle delle sue di suoi di questi film di arrivare a distillare una una un'antichità greca arcaica preclassica totalmente di invenzione e totalmente ispirata a quello che nel mondo italiano dell'epoca fanno gli artisti contemporanei fanno mario merz fanno giuseppe penone cioè artisti che usano materiali comuni come la raffia il legno la paglia pascali stesso cioè esiste effettivamente un'area di famiglia tra gli anni metà anni 60 e metà anni 70 tra tante cose che non hanno a che fare le une con le altre i film di pasolini non sono la fonte di melotti e viceversa né di calvino però esiste questa idea che in qualche modo il corso della modernità che ormai è diventato palesemente del della società del consumo la società di massa la società dei media la società della del consenso consumistico quello che pasolini denuncerà appunto qualche anno dopo in alcuni esaggi e articoli molto molto famosi questa questa deriva benché non possa essere diciamo arrestata però può essere contraddetta dalla emersione di immagini invece immemoriali arcaiche immagini che sorgono dall'antropologia per esempio no le immagini sacrali di tanti artisti richard long che fa le spirali ispirandosi al neolitico ai monumenti neolitici inglesi altri in italia che usano appunto materiali tecniche ed estetica arcaica questa idea naturalmente solo tangenzialmente ci serve a vedere le cose di melotti però trovo molto interessante appunto certi certi elementi no certe e certe presenze questo per esempio è uno di di quei dissonanze armoniose questa è una c'è una serie di un gruppo di lavori appunto realizzati all'inizio degli anni 70 in cui l'elemento musicale è esplicitato dalla dal titolo qui qui gli elementi giacomettiani diciamo sono abbastanza visibili ci sono proprio delle dei riferimenti diciamo per chi sa appunto chi ha in mente un po l'immagine giacomettiana degli anni 30 ma ciò che conta invece più propriamente appunto è questa scarnificazione questa idea di immagini viste quasi attraverso l'acqua arriviamo appunto all'ultimo atto nell 81 si fa una mostra forte del belvedere dove melotti tra l'altro espone un'opera importante all'aperto che adesso sta di fronte all'angarbicocca per chi è familiare dell'angarbicocca ma effimeri è il titolo della appunto della recensione che esce su repubblica di questa mostra dove si parla tra l'altro di questo di questo di questo lavoro si vede male dall'aggiù credo c'è una struttura molto leggera di fili d'ottone una garza e poi dei segni come se degli ideogrammi misteriosi che calvino chiama appunto una partitura di ideogrammi senza peso come insetti acquatici che sembrano volteggiare su di una spalliera d'ottone schermata da un filtro di garza anche qui prosodia naturalmente immaginiamoci repubblica oggi diciamo avrebbe qualche difficoltà forse a pubblicare un testo così allora era ovviamente possibile e questa è un'altra per finire un'altra citazione la nave di ulisse proprio questo lavoro scarnificata come la carena di un uccello come una testina con una testina di gesso su un pennone occorre osservare che melotti uno dei padri fondatori dell'astrattismo mette quasi sempre nelle sue opere un sia pur minimo elemento figurativo come per sottintendere che il rigore non è mai dove più ce lo si aspetta è interessante perché nello stesso pezzo calvino ha due stili così no questa parentesi è totalmente diciamo saggistica e invece il pezzo prima è lirico e lo scrittore delle parentesi c'è un libro la giornata un scrutatore che è tutta fatta di parentesi bellissimo e finiamo con quest'ultima immagine di mulas sempre e questa è una invece citazione che mi sono riservato alla fine così un piccolo fuoco d'artificio questo è una frase una citazione molto famosa tra l'altro che è stata ripresa molto spesso i segni vanno comunque tenuti alti senza nessuna prosopopea con la leggerezza l'attenzione l'industriosa ostinazione dei palafitticoli era verso il paese della palafitte che il viaggiatore e non da ieri muoveva i suoi trampoli solo habitat possibile per i secoli immediatamente prossimi a prendere da melotti che l'infinito s'avvolge su se stesso a spirale autorizza d'altronde a una certa confidenza con lo spazio e con il tempo ecco questo è diciamo il distillato un po del rapporto del rapporto tra melotti e calvino c'è tempo forse ancora per qualche per qualche osservazione e per qualche domanda grazie in dieci minuti vi dico cosa interessava calvino di melotti e perché perché accettato di scrivere il testo per lui allora sono tre questioni molto molto semplici che non starò a spiegare più di tanto la prima è la leggerezza che ovviamente ritorna tantissimo già nel 71 perché quella di melotti comunque è sempre una scultura senza peso che siano le femmeri della fortezza o altri lavori l'elemento che gli interessa della leggerezza è l'elemento mercuriale cioè i melotti che a quel punto a 70 anni quando calvino lo incontra con un lavoro già sedimentato come stefano ha fatto vedere degli anni 30 per lui è un senex puer anche la stessa fotografia che ha mostrato adesso ecco questa che vediamo è qualcosa che è come dire melottiano anche come è una scultura ma è qualcosa è un uccello melottiano ma è anche al tempo stesso qualcosa appunto che può prendere il volo e staccarsi quel naso è il becco e le ali sono la sua scultura è uno scultore mercuriale che cosa vuol dire che uno scultore mercuriale credo che diciamo il tono della scultura così come calvino l'ha percepita di melotti compresa probabilmente non conosceva quella che tu hai mostrato di tipo diciamo più realista è allegria più malinconia cioè c'è sempre questo elemento musicale che lega due cose che non sono vicinissime ma che lo diventano nel momento in cui il suono le mette insieme cioè è un'espressione questa di calvino la felicità malinconica che è anche uno dei temi diciamo non solo letterari ma anche personali di calvino c'è questo elemento di fondo sempre che emerge cioè c'è una felicità dello scrivere anche se poi calvino dice c'è una felicità del dipingere scrivere una cosa faticosa insomma come se vorrei essere una mano staccata dal corpo che scrive quindi c'è anche questo problema della materia è un mondo mercuriale è un ingegnere come gadda che l'altro autore che andrebbe letto insieme a melotti dello spostamento che calvino fa nel corso degli anni cinquanta e sessanta da una critica diciamo dell'insopportabilità di di gadda di cui riconosce il grande talento ma cui capisce che gadda va a toccare l'elemento caotico mentre l'ingegnere melotti riporta all'ordine questo caos lo restituisce grazie a questo elemento dell'allegria più malinconia il secondo motivo è quello della forma mentis dello spazio che è una cosa che dice calvino cioè è un'arte che si rivolge prima all'intelletto e non direttamente ai sensi cioè fa un giro in più per raggiungere l'elemento sensuale musica matematica e geometria sono sensoriali ma al tempo stesso sono elementi altamente mentali naturalmente qui bisogna fare un discorso sull'elemento mentale in calvino che non c'è tempo allora i suoi testi di calvino i due testi che sono molto diversi dal punto di vista stilistico e infatti se possono separati da dieci anni sono sempre riflessioni sul pensare barra fare che naturalmente il fare per calvino è non è un elemento performativo ma è un elemento della scrittura cioè il farsi della scrittura stessa scrive sempre a mano sempre la maggior parte dei suoi testi sono trascritti una seconda volta perché non si capiva lui stesso con la lente di ingrandimento doveva ingrandire quello che aveva scritto e una terza passaggio è batte a macchina cosa vuol dire lo spazio ecco per calvino è nel testo del 71 è uno spazio verticale cita levi strauss è un viaggio conoscitivo quello che si compie cioè la letteratura per calvino è un modo per conoscere il mondo ma è un modo attraverso cui il mondo conosce se stesso questa è una cosa che lui dice c'è il tema del dentro del fuori melotti è un autore del fuori non è un autore del dentro cioè non è un autore psicologico è vero che ci sono quegli elementi che tu segnavi insomma anche della disperazione la malinconia stessa ma la malinconia è una proiezione è tutto un elemento portato fuori il terzo punto è una scultura che non appartiene né 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 al mettere né al togliere che quindi diciamo un terzo tipo di di scultura quindi è questa è la modernità sostanzialmente no il pendolo che il pendolo un altro oggetto di cui parla calvino 71 questa forca questa questo oggetto molto strano che qui non abbiamo mostrato i segni vanno tenuti alti perché vanno tenuti alti perché è la mente e la materia come dice calvino è sempre in prova in melotti è in prova l'ultima cosa che si può aggiungere a questo è il legame intorno a ciò che è effimero in calvino c'è sempre la potenza e l'atto c'è sempre il possibile e l'impossibile rendere possibile l'impossibile e scrivere ma dunque c'è un rapporto tra questa sua scrittura che di cui lui percepisce l'elemento della leggerezza ma che è anche come altra faccia effimero che non dura che è appunto volatile e quindi c'è un rapporto con questa scultura quindi la scultura è proprio davvero quella di una partitura di di diagrammi questo è il pezzo dell 81 su repubblica una partitura di diagrammi senza peso come insetti acquatici che sembrano volteggiare e sulla spalliera quella che tu hai appena citato dunque quindi questo elemento della leggerezza per calvino è non è un elemento tragico ma è un elemento anche dell'impossibile ecco da forma a qualcosa che melotti per lui da forma qualcosa che è nell'ambito dell'impossibile cioè un possibile impossibile e questo per lui è credo che sia un elemento diciamo nel passaggio dal 71 all 81 molto molto importante adesso qui non c'è tempo di dire che cosa sono le le città invisibili lo dico solo con una battuta sono il massimo di estrazione insieme al massimo di concretezza questo è un altro elemento che lo avvicina a melotti e lo porta a ragionare su questa possibilità di di una scultura completamente diversa da quella che lui aveva conosciuto una scultura appunto come tu hai mostrato vicino a clay e vicino a degli irregolari della dell'arte del novecento ecco calvino è la domanda che ci si fa ancora oggi insomma sono passati cent'anni ma perché calvino è ancora così leggibile ecco a differenza per esempio di pasolini pasolini è uno scrittore senza romanzi petroglio è un romanzo non finito i due dedicati la vita violenta e ragazzi di vita sono romanzi per modo di dire non fino in fondo ecco sono invecchiati tantissimo perché calvino riesce ad essere contemporaneo credo che lo sia per lo stesso processo anche se le due biografie sono molto diverse anche nei termini del riconoscimento che i due hanno ricevuto nel corso della loro vita calvino è partito già a 24 anni nel 47 già come uno scrittore che si era affermato e ha continuato è che calvino riesce a essere contemporaneo perché riesce a introdurre nel suo lavoro anche attraverso presenza degli artisti e tutti questi lavori che ha fatto sull'arte sul cinema sul paesaggio riesce a introdurre degli elementi che appartengono profondamente alla sua natura che è una natura contemporanea lo è fin da subito non è in anticipo non è non è neanche in atto non è anche non è uno scrittore attuale è uno scrittore che cammina insieme a te in modo contemporaneo come dicevi tu perché riassume un'epoca ma porta questa epoca oltre se stessa grazie 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 grazie